Continui Sandro per Piccolo TV con Bomber Mantelli, le tue impressioni della partita? Abbiamo giocato bene fin da subito, abbiamo attaccato gli avversari come ci ha detto il mister, poi insomma stiamo crescendo sempre di più, troviamo le combinazioni perfette e devo dire che la squadra ha risposto bene oggi, forse oggi è il primo vero passo avanti di questa stagione, prima grande prestazione. Grazie per Piccolo TV è tutto, alla prossima!